Ciao a tutti i malati di Milano e non, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Allora, post Cagliari-Milan, in realtà mi ha portato il video della trasferta, vi ho già detto qualcosina lì. Ho fatto la live ieri sera perché ragazzi sono tornato domenica sera, sono andato a lavoro e non sono riuscito a portarvi subito video inerenti all'analisi e robe varie. Bisogna aver tempo per prepararle le analisi, quindi l'abbiamo fatto ieri sera in live, se volete recuperarvi andatevele a recuperare. Oggi però voglio andare più nello specifico e parlare del problema che c'è stato contro il Cagliari ma che abbiamo da tempo, da anni, cioè la difesa. E con difesa si intende tutto, molte volte si tende a parlare solo del singolo, in altre circostanze si parla del modo di difendere e mai entrambe le cose. E purtroppo sono entrambe le cose. Molte volte è il singolo, molte volte è come e altre volte è come il singolo. E quindi se non migliori in maniera esponenziale una delle due, non si migliora neanche l'altra in maniera marginale. Cioè rimaniamo sempre dove in una partita c'è il singolo che fa bene ma poi il contesto difensivo e il modo di difendere è sbagliato e nell'altra magari il modo di difendere è giusto ma c'è il difensore che sbaglia singolarmente. Quindi abbiamo questo tipo di problema. Contro il Cagliari andiamo nello specifico perché sennò è un discorso troppo generico poi ci perdiamo. Contro il Cagliari e invece sono entrambe le cose. C'è una difesa passiva, una difesa poco attenta, poco lucida che comunica poco. Una nuova difesa, ciao e Pavlovich e non Tomori, ciao come la Madrid. Non si dà continuità ai due centrali, cosa sbagliatissima perché il ruolo difensore centrale soprattutto al giorno d'oggi dove bisogna difendere la zona perché è un calcio molto di movimento, dove non sai mai chi si infila in aria, chi si inserisce. Quindi non puoi stare a uomo, devi stare a zona. Beh, la comunicazione è importantissima e continuare a cambiare i due centrali è la roba più sbagliata che si possa fare. Però per un motivo, per un altro, questo è il modus operandi che sta avendo Fonseca. Non lo discuto, per me è sbagliato. Quindi la prima roba che secondo me bisognerebbe fare è trovare la coppia di centrali, punto. Ovviamente poi se uno sta male, se non è, ovviamente si cambia. Però dare priorità sempre a una coppia di centrali per far sì che la difesa inizi a prendere solidità. E un'altra roba sono le scelte. Sono le scelte prese sia dal giocatore che nel modo di difendere. Perché si difende a zona ma lo si fa sbagliando poi la scelta e le letture. E se tu difendi a zona ma sbagli le letture succede un putiferio. E quello che è successo contro il Cagliari è proprio questo. Che abbiamo dato sempre spazio per crossare con una libertà esagerata. E bisogna considerare che il Cagliari, ragazzi, è una delle squadre che usa di più i cross in serie. Adesso non vi voglio dare dati precisi perché non sto lì a guardarli. Ma penso sia una delle prime squadre per colpi di testo o comunque per cross in mezzo. Anche per precisione di cross. Quindi è una squadra che tu già preparai la parte e sai benissimo che il Cagliari punterà su questo. Anche perché tu sei una squadra che subisce molto questo tipo di gioco offensivo da parte delle squadre avversarie. Sai che hai preso tantissimi gol su cross, su cambi di fronte, sul secondo palo. Quindi sai benissimo che la squadra avversaria ti andrà a colpire lì. E tu devi fare in modo che sei preparato, sei pronto per reagire a ciò. E non è stato così. Non siamo stati bravi ad essere aggressivi prima ad andare a pressare per il cross. Per far sì che il cross non sia preciso perché crossare ragazzi è facile se sei libero. Ma se sei prestato non è una roba semplice. Crossare dove vuoi crossare. E poi difesa zone con scelte sbagliatissime. Secondo me in varie occasioni ne andiamo a analizzare tre oggi. Che riassumono tutto. Sia la poca pressione, aggressione. Sia all'interno dell'area che fuori, prima del cross. Insomma la pressione del cross. E sia per la difesa zona e le scelte che vengono prese. Tutti stanno dando colpa a Teo Hernandez che sicuramente non è in forma. Sicuramente non sta facendo, non sta giocando bene. Ma non da adesso, ma da un po'. Però vi do uno spoiler. Facile prendersela con Teo che è quello che ha più responsabilità. Perché è Teo Hernandez, è il capitano eccetera eccetera. Ma non è solo colpa di Teo. Anzi ha colpe ma ci sono tante altre colpe. Non è aiutato dal contesto difensivo. Questo ve lo posso garantire. La prima situazione che andiamo ad analizzare ragazzi. Non è un gol ma è un quasi gol di piccoli. Che tra l'altro forse era anche in fuorigioco. Siamo al minuto di 44. 2-1 per il minuto. Guardo il minuto ragazzi perché ho l'immagine. Per farvelo capire senza immagine in questo video ragazzi. Devo usare la lavagnetta. Il cross è di Zortea. Va a Renders perché come vi ho spiegato finalmente. Questa è una cosa che mi sta piacendo tanto. Leao fa la punta e non deve fare questo tipo di lavoro. Ma fa la punta con Camarda. Quindi è Renders a scalare in un centriamo che diventa 4. Con Ciuqueza, Fofana, Pulisic e Renders. Renders a scalare su Zortea. Teo pronto all'inserimento di Zappa. Quindi fino a qui tutto bene. E qua arriviamo al bello. Pavlovich a zona. E sui cross da questa parte è sempre Pavlovich. Sui cross dall'altra parte è sempre Pavlovich. Ciao. E dopo nell'azione vi faccio capire che è così. Prima roba da capire. Secondo me è importante. Fofana. Fofana deve andare ad aiutare. Soprattutto se l'inserimento come nel goal ad esempio del 3-3. Come l'azione vi faccio vedere dopo. Soprattutto se si buttano tanti dentro i giocatori del Cagliari. Bisogna dare una mano. Quindi Fofana giustamente, giustamente è qui. Piccoli. Su un momento del cross si trova prima. Ok? E prenderà le spalle Fofana. Il che ci può stare. Perché? Perché Piccoli va in aria. La marcatura a zona di Pavlovich serve proprio per prendere il pallone se Piccoli va in quella zona. Quindi... Nel tanto bisogna invertire i portieri. Quindi ragazzi... La marcatura a zona è questo. Pavlovich non è che è messo lì a caso. Quindi se Piccoli si inserisce... Non deve andare a Ciao. Non deve andare a Fofana. O meglio se Fofana lo vede è meglio ancora. Però... Deve andare... Deve restarci Pavlovich. Quindi Pavlovich a zona bene. Piccoli va sul primo. C'è Pavlovich. Ciao non deve fare questo. Perché se Ciao fa questo... E va su Piccoli per paura... Emerson va qui. E qua si crea lo spazio per Lovumbo. Lovumbo. E voi mi dite... È Chukwez che ci deve essere. Sono d'accordissimo. Ma... Per evitare tutto ciò... Perché Chukwez ragazzi... Non è quel tipo di giocatore lì. Non è quella roba lì. Se ci fosse stato Musa... Ed ecco... Ecco perché io rimarco sul fatto che voglio Musa in campo con un giocatore come lui. Ti posso venire a dire... Ok Musa qua è emerso un po' a scalare lì. Però... In questa situazione dove ragazzi sono in tre. Siamo tre contro quattro. Lasciate stare Chukwez. Siamo tre contro quattro. Perché Chukwez è anche un po' indietro. Siamo tre contro quattro. È follia pura. Che noi siamo riusciti a prendere quasi gol da piccoli. Perché? Cross dentro Zortea. Cosa succede? Piccoli alle spalle di Pavlovich. Ok? C'ha... Tra l'altro Viola in mezzo. Né sto fenomeno. C'ha o... Per paura... Per paura di... Che piccoli comunque è più pericoloso in area. Lascia stare Viola. E dice ad Emerson... Prendilo tu. E cosa succede? Che Emerson va su Viola. E rimane da solo Lovumbo. E queste sono le cose che succedono praticamente da inizio stagione. Questi cacchio di cross sul secondo che noi non sappiamo gestire. E qui succede a Emerson. Poi palla Lovumbo. Lovumbo di testa in mezzo. E piccoli quasi segna. Ok. L'errore non è dopo. Perché dopo scala tutto. E ci può stare che nel... Nella cosa che non ti aspetti. Piccoli. Possa prendere in... Diciamo in contropiede. O comunque... Alla sprovvista la difesa. Il problema è proprio questo scalare. Cioè questa roba qua non deve esistere. Emerson su Lovumbo. Viola. Ciao su Viola. E Pavlovich. Non c'è bisogno di... Che non ha rimarcatore su piccoli. C'è Pavlovich a zona. C'è Pavlovich. Se prende un gol. Vuol dire che Pavlovich non sa fare il difensore. O meglio. Se tu vuoi difendere la zona. Il difensore a zona deve fare questo lavoro qua. Perché se tu difendi a zona. E poi mi vai comunque a uomo. È folle. È follia. Soprattutto se facendo... Andando a uomo. Poi mi lascia l'uomo libero. Emerson stringe. E lascia da solo Lovumbo. Perché? Perché nel gol. Nel terzo gol. Poi vedrete. Non succede la stessa cosa. Ma quasi. Ma succede molto spesso. Ad esempio a Torino. Ad esempio a Parma. Succede molto spesso. E non parlo solo di gol. Ma anche di persone pericolose. Perché? Perché succede la stessa cosa nella seconda azione. Che andiamo ad analizzare. Ecco la seconda situazione. E questa è ancora peggio. Questa è ancora peggio. Allora. Innanzitutto. Fasi di possesso Padel Cagliari. Riescono ad andare dall'altra parte. Ciucuese in ritardo. Ciucuese in ritardo. Non c'è pressione. Non c'è aggressività. Non esce forte. E Ugello è libero di crossare. In maniera molto pericolosa. Ok? Prima roba. Ciao e a zona. Come Paolo dice da quella parte qua. Prima cosa che secondo me è. Poi questa è un'opinione personale. Sono modi di difendere. Non sto dicendo che è giusto così. Per i problemi che abbiamo. Prima roba da fare. Ti metti qua. Ti metti a difendere la zona più basso. Non ti metti qua. Perché qua. C'è più profondità da attaccare. Qua ce n'è meno. E dai anche una mano se si crossa sul secondo. Quindi. Prima roba secondo me è zona sbagliata. Ma va bene così. Se vuole difendere lì. Perfetto. Zortea. Il Cagliari ne porta 4. Il Cagliari ne porta 4 in aria. Con l'Uvumbo che si tira fuori Emerson. Ok? Quindi sono 4 contro 1, 2, 3 e 4. Perché Fofana è quello che segue. Render sta al limite dell'aria. Ok? Quindi è un 1v1. È un 1 contro 1. Quindi di uomini liberi non ce ne dovrebbero essere. Ce ne sono solo per solo quando. Quando Marchia zona e quindi. E quindi questa zona qua è di Ciao. Se Zortea. Se Zortea si inserisce. E quindi arriva il quarto. E non è più un 3 contro 3. Ma è un quarto. Il quarto deve prendere Ciao. Perché se no Ciao che cazzo sta a fare lì? Ciao Marchia zona. Quindi Zortea fa sul primo palo e si inserisce bene. Questo è di Ciao. Punto. E invece cosa succede? Succede sempre la solita storia. Tra l'altro aggravante di Pavlovich. Che cerca di mettere in linea. Di fare un fuorigioco. Di alzare la linea. Quando era totalmente impossibile farlo. Ma vabbè. Ma va perché c'era Teo ragazzi qua su piccoli. E Teo tiene piccoli perché? Perché c'è. Ciao a zona. Zortea che si sta inserendo. E Fofanà che non sta prendendo nessuno. Ok? Qua cosa bisognava fare? Cross dentro. Perfetto. Pavlovich deve stare su piccoli. Prima no ma Pavlovich deve stare su piccoli. Perché tu hai messo Pavlovich proprio per evitare. Che piccoli ti. Alasse. Ok? Che dominasse nel gioco. Qua aereo. Quindi tu l'hai messo. E non l'hai messo to me. L'hai messo Pavlovich. Bene. Pavlovich deve stare a uomo su piccoli. Ok? Almeno quando sei in aria. A uomo su piccoli. Oh. Teo deve stare su zappa. E invece no. Teo è su piccoli. Che in realtà Teo è sia su zappa che su piccoli. È nella fase intermedia. Ok? È ad aiutare se si perde l'uomo. E ad allargarsi se il pallone è sul secondo palo. E invece cosa succede? Che Pavlovich fa questo movimento. A cercare di creare un fuorigioco del cavolo. Viola si inserisce. Scusate. Zortea si inserisce. E Fofanà lo segue. Primo errore. Non doveva seguirlo. Cioè ciao. Non devi seguirlo. Questo seguire. Fofanà che va a seguirlo. Crea questo 2 contro 3. Ok? E qua c'è l'altro errore. Quindi l'errore di Fofanà che in realtà non è un errore. Ma è ciò che gli viene richiesto secondo me. E qua secondo me c'è. Per me è sbagliato. Poi io non capisco di calcio. Però io vi dico la mia. Sono qua per parlarne. Pavlovich. Ok? Facendo questo movimento qua. Perde metri. E li perde su Viola. E quindi si trova costretto. Ok? Perché aveva questa scelta. A non andare su Viola. Dimenticandosi che aveva Piccoli. Teo. Ovviamente. Vedendo che Pavlovich stringe su Viola. E dice minchia. Io Piccoli non posso lasciarlo da solo. È più pericoloso Piccoli che Zappa. E giustamente Teo stringe su Piccoli. Cross di Augello. Molto alto. Molto secondo Paolo. E qua Teo sicuramente. Tecnicamente e individualmente sbaglia. Perché non prende bene il tempo. Salta male. La palla arriva a Zappa. Zappa. Cross in mezzo. Gol di Viola. Che per fortuna. Che per fortuna era in fuorigioco di una spanna. Quindi capite che il primo errore. Ve lo faccio rivedere. Il primo errore. È di Fofanà. O meglio. Fofanà non deve seguire Zortea. Vediamo se Fofanà non avesse seguito Zortea. Zortea va dentro. E c'è ciao a zona. Pavlovich fa questo errore. Bene. Viola. Lo segue Fofanà. Non segue Zortea. Ma segue Viola. Pavlovich. Sta su Piccoli. Perché su Viola c'è Fofanà che l'ha seguito. E Teo sta su Zappa. E la palla a Zappa non arriva. Mai. E poi mai. Con l'ultima situazione. E qui in realtà. Vi vado ad analizzare il gol del 3-3. Che è un gol incredibile di Zappa. Un gol incredibile di Zappa. Un gol che però arriva perché. Hai rischiato tantissimo prima. È un gol che arriva giustamente. È un pareggio meritato. In realtà. Forse ti merita anche di perdere. Per gli errori che hai fatto difensivamente. E. Andiamo ad analizzare di chi è la colpa. Nei commenti. Ma comunque su internet tutti. È colpa di Teo. È colpa di Okafor che non torna su Zappa. E su Okafor ci posso anche stare. Su Teo no. Assolutamente vi faccio vedere il perché. E se vi dicessi che la colpa è di. Fofanà e Loftus. Sì perché l'azione. Parte prima. Il finire dell'azione. È sempre causato da un qualcosa di precedente. Quindi quando si analizza un gol preso. Bisogna anche vedere come arriva. No. Da dove arriva l'azione. L'azione arriva da questo. Abram giustamente impressione sul difensore. Cagliari. Tutto su. Novantesimo. Cagliari che non ha nulla da perdere. Deve pareggiare questa partita. Bene. VTSK. Ah brava impressione. VTSK passa da Deiola che è solo. Ok. E su questo ragazzi. Nulla di sbagliato. Perché? Perché è giusto barricarsi dietro. Il Cagliari ragazzi ha 4 punte. Con Zappa e Ugello che salgono di continuo. Quindi il Milan giustamente ha fatto il 3 tommo a posto di Emerson. Ha messo Musa. E si è messo con Musa terzino. Teo terzino dall'altra parte. Quindi una difesa a 5. Il problema è che. Siamo in inferiorità. Se salgono tutti. Quindi serve l'aiuto da parte dei centrocampisti. Aiuto che non arriva. Per me la prima colpa. Non colpa. Ma l'attitudine di Reinders Fofanà. Non mi piace in queste situazioni. In queste situazioni dove bisogna difendere. Bisogna fare compattezza in aria. Perché? Perché tendono sempre a pressare. E a dare con troppa sufficienza il lavoro in aria. Come il tipo lo fanno i difensori. No. Non è così. Detto questo. Soprattutto quando il Cagliari. Quando una squadra deve recuperare la partita. E va tutto in avanti. Anche tu devi essere presente in aria. Il Milan è schierato così. Con una brava impressione. E giustamente. Giustamente. Ma impressione. La palla arriva a De Iola. In questo. Questo qua. È l'errore principale. L'errore che porta poi al gol di Zappa. Euro gol di Zappa. De Iola. Deve essere pressato. A mio avviso no. O meglio. Deve essere sicuramente sollecitato. A. Una chiusura. Ok. For final of. Devono chiudere le linee di passaggio. Ma non devono fare questo. Non devono fare questo. Perché fare questo vuol dire. Se fai questo. Vuol dire che c'è spazio qua. Se fai questo. Vuol dire che devi. Palla ogello. Palla ogello. Musa deve uscire. Ed è quello che succede. Il problema è che qua. Non è che uno dei due lo fa. E va. Qua lo fanno entrambi. Cioè. Capito. Quindi è sbagliato farlo. In uno. Pensa se lo fanno in due. E loro l'hanno fatto in due. Perché? Perché. Palla De Iola. Che è solo. E. Fofanà. E Loftus. Vogliono andare a pressare. De Iola. Invita. Loftus. Tende a far. Cioè. Tenta di farlo. Tenta una pressione. Ok. Neanche troppo esagerata. Una via di mezzo. Fofanà invece lo fa in maniera un po' più. Cattiva. A questo punto. Se Fofanà va su De Iola. Ci siete? Se Fofanà va su De Iola. Loftus qua che cazzo fa? Loftus non deve stare qui. Loftus deve arretrare. Loftus deve chiudere. La linea di passaggio che Fofanà. È andata a pressare. Ok. Cioè. Scusate. La linea di passaggio che Fofanà è andata a creare. Perché se tu va in pressione. Al posto tuo c'è andato Fofanà. Bene. C'è voluto andare lui. Bene. Io devo arretrare. Loftus invece rimane lì. E sbaglia. Perché? Perché palla di De Iola ad Augello. Se Loftus fosse stato qui. Ok. Cosa sarebbe successo? Che palla ad Augello. Musa esce giustamente. E qui Luvumbo si va a buttare giustamente nello spazio. Perché il calcio è questo ragazzi. Movimento. Spazio che si libera. Spazio da attaccare. E qua ci va Tomori. Il problema è che andandoci Tomori. E qua si chiara un 3 contro 2. E Teo. Deve andare a stringere. Qui non deve uscire Tomori. Tomori esce perché giustamente Luvumbo è libero. Non sbaglia Tomori ad uscire. Quando in realtà però. Lì è una scelta. Secondo me poteva anche scegliere di non farlo. Qui ragazzi deve essere Loftus. Che? Musa che va ad attaccare Augello. Perché giustamente non deve crossare. Perché Fonseca gli avrà detto. Quando stanno per crossare vai forte. Come doveva farciuqueze. Quindi Musa non sbaglia nulla. Qui Loftus invece di stare qua. Se fosse stato qui. Palla di Augello qua. E Loftus va su Luvumbo. E non deve uscirci Tomori. Invece Loftus è stato qui. Luvumbo spazio. Tomori esce. Augello si fa rivedere. Quindi si prende. Tomori appresso Luvumbo. Gli era ridato Augello. Musa a mio avviso qua. Poteva fare qualcosa di più. Sicuramente sì. Però alla fine Augello ragazzi mette un gran cross. E qui ragazzi cosa si crea? La padula. Ciao. Pavoletti. Pavlovich. E qua ritorniamo al fatto che Reinders non va ad aiutare. Perché se Reinders va ad aiutare. A mio avviso va su Gaetano. E Teo non deve andare. Non deve andare su. Non deve stringere. Pavoletti su Pavlovich. Poi in realtà non è neanche. Sì Pavoletti su Pavlovich. Ma comunque. Qua c'è poi stato un movimento. Teo comunque è andato ad aiutare questa zona qua. Perché erano in tre. Quindi Teo giustamente è andato a stringere qui. Poi succede che Pavoletti si stacca. Pavlovich. E rimangono praticamente. Gaetano limita l'area. La padula. Pavoletti. Teo. Ciao. Pavlovich. A coprire questa zona. E per me è giustissimo. Qui cosa succede? Che la palla poi va a zappa. Zappa ovviamente giustamente segue l'azione. Si accentra. Palla a zappa. Gol. Euro gol. Okafor qui può fare su qualcosa in più assolutamente sensibile. Okafor la dirittava centralmente invece di andare qua. Quindi Okafor assolutamente. Se fosse stato più attento. Più dentro la palla. Mi ha visto qua. È errore. Poteva andare su zappa assolutamente. Ma l'errore principale. L'errore nasce. Dal fatto di far uscire Tomahori sullo Vumbo. E questo. Succede perché Loftus e Fofana sono andati su Deiola. Cosa inutile. Ripeto. Su Deiola secondo me non bisognava neanche andare così aggressivi. Ce ne sono andati in due. Ce ne sono andati in due. E quindi ragazzi. Nasce tutto da questa indecisione di chi doveva andare a pressare. Pressare troppo alto. Loftus rimane troppo lì. A non sapere che cazzo fare. Spazio per lo Vumbo. Palla dentro di Augello. Teo stringe ragazzi. Teo non sbaglia. Teo stringe perché giustamente Tomahori non c'è più. Il Milan ha messo la difesa a tre. Apposta per non avere problemi in aria. C'era. Erano uomo. Erano tre contro tre. Era giustissimo. E il problema è che resta fuori zappa. La coperta è corta ragazzi. La coperta è corta. È uscito probabilmente un video un po' lungo. Chi lo sa. Io però spero di avervi spiegato bene quello che non è andato. Quello che deve migliorare. È andata così. È stato sicuramente. L'ultimo è stato sicuramente un euro goal di zappa. Ma è come? È arrivato il pallone a zappa. Il pallone a zappa non ci doveva arrivare. Spero di avervi spiegato tutto bene ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like al video. Commentate con la vostra impressione. Le vostre idee. Iscrivetevi al canale se vi va. Se vi va di sostenere il progetto. Noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto da tutti. Forza final sempre. E comunque. Grazie a tutti.